Mentre vostra moglie è sbraita furiosa, per calmarla fatele vedere il filmato del vostro matrimonio, quello di foto LM. E quando urla per il rientro alle 5 del mattino, guardate con lei le foto del bambino, quelle di foto LM. E quando uscite da solo la sera, noleggiate per lei un film da foto LM. Beh, se poi scopre con chi eravate, cercatevi un alibi, magari in foto. Foto LM, servizi nozze con filmino d'autore ed effetti speciali. Noleggio video film, macchine fotografiche e accessori per video e fotografia. In via Dante Alighieri 58 a Monte Piascone, telefono 823922.